Chissà che sarà di noi, lo scopri nello solo diverso, comunque adesso ho paura, ora che questa avventura sta diventando un lettore a vera, spero tanto tu sia sincera. Oh, le mani che erano su, 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 è un filare in alto mare, come concelli da ammazzare, piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più. Oh, le mani che erano su, su, è un filare in alto mare, come concelli da ammazzare, piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più. Oh, le mani che erano su, è un filare in alto mare, come concelli da ammazzare, piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più. Su le mani, tutti i suoni di Michele Panaiani questa notte, tutta la piazza, su! Oh, le mani che erano su, è un filare in alto mare, come concelli da ammazzare. Oh, le mani che erano su, è un filare in alto mare, come concelli da ammazzare. Oh, le mani che erano su, è un filare in alto mare, come concelli da ammazzare. Oh, le mani che erano su, è un filare in alto mare, come concelli da ammazzare. Oh, le mani che erano su. Oh, le mani che erano su. Oh, le mani che erano su.